Ciao amici di GuffoTour, siamo a Houston in Minnesota e sto per presentarvi qualcosa di veramente speciale. Siamo per entrare in un vero e proprio laboratorio per costruire i nidi per i guffi. Sentite questo rumore? Sono tutti questi ragazzi, i bambini, che stanno costruendo in legno dei nidi meravigliosi per i rapaci notturni del Minnesota. Iniziamo insieme questo giro. Ci troviamo al festival dei guffi in America. Si svolge ogni anno a marzo dal 2006. L'attività di costruire i nidi è una delle attività principali. Vedete che i nidi sono molto grossi perché i rapaci notturni americani sono di dimensioni maggiori rispetto a quelli italiani. Le mamme, i bambini, tutti quanti collaborano per costruire i nidi. Questa è una compagnia. Vedete che qui troviamo dei nidi di dimensioni diverse. Ce n'è uno grande. Abbiamo visto che è per il bar ed a hole, cioè l'allocco barrato nordamericano. E questo probabilmente è per lo screech a hole che vive qui sia di gusto in Minnesota che in altre parti del nord America. Come vedete costruire i nidi non è un lavoro solo per bimbi ma anche per ragazzine. Sono stati realizzati anche degli altri accessori per il bird garden. Qui vedete una mangiatoia e soprattutto un nido per le cince. Abbiamo le cince ovviamente anche in Nord America. Ecco qui osservate una cosa molto interessante perché insieme al nido viene regalato al ragazzino anche un quadro di interessante da inserire, ovvero dei crucioli di leno che possono servire al, in questo caso dello screech a hole per nidificare. Vedete ragazzi costruiscono il nido e si lo portano a casa. Grazie a tutti.